Al prossimo gruppo, dopo la meditazione guidata, dopo aver aperto il chakra del cuore, al momento dell'abbraccio, afferrerò quella troietta di Marla Singer e urlerò Marla, sei una bugiarda! Sei una gran falsona! Io ho bisogno di questo! Vattene! Non dormivo da quattro giorni Quando soffri di insonnia, non sei mai realmente addormentato E non sei mai realmente sveglio Apriamo la seduta di stasera, ma prima Clau vorrebbe dirvi due parole Grazie a tutti! Buonanotte mamma! 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 Buongiorno principessa! Pronta per un'altra giornata di merda? Ma tu che cazzo sei? Io sono un'amica venuta da molto lontano No, no, no Vale Che cazzo sta succedendo? Allora? Pensavi di esserti già liberata di me? Ancora tu? Ma che cos'è che vuoi da me? Io sono il motivo per cui non dormi la notte Sono un motivo per cui non riesci più a guardarti allo specchio Sono nata al giorno dell'incidente e da allora ti tormento Smettila, lasciami stare È colpa tua se tua madre è morta e lo sai Non meriti di essere viva Sei un'assassina! Stai zitta! Stai zitta cazzo! Ti prego, ti prego! Cazzo sei solo una vicenda Non puoi liberarti di me perché io sono parte di te Dai, avanti! Diretta una sola cosa! Spendila cazzo, spendila! Stai zitta! È colpa tua se tua madre è morta e lo sai È colpa tua, è colpa tua, è colpa tua, è colpa tua Non meriti di essere viva Non meriti di essere viva Sei un'assassina! Sei un'assassina! Ti resta una sola cosa da fare Ti resta una sola cosa da fare Dai, cazzo falla e pon i fini alle tue soffurti Uccidi, fai schifo cazzo Devi morire Sei un'assassina, sei un'vergogna! Sei un'assassina, sei una vergogna! Uori, sei un mostro! Sei un mostro! Grazie a tutti.